pochi minuti prima delle 10 tre rintocchi sul portone principale della chiesa del carmine a taranto per il rientro della processione dei misteri grande affluenza e commozione durante i riti della settimana santa nel capoluogo ionico dopo il lungo stop pandemico tragedia sfiorata nello stabilimento siderurgico ex silva nel reparto acciaieria 2 cade una struttura pesante a lanciare l'allarme i sindacati che chiedono investimenti sulla sicurezza si difende acciaierie d'italia che ha annunciato provvedimenti investigativi e disciplinari sugli operatori stessi al fine di valutarne la responsabilità il frattino torna a nidificare sul lungomare di bari transennato un tratto a sud della città da torre quetta verso san giorgio per proteggere i primi nidi un appuntamento ormai annuale che certifica l'eccellenza della qualità dell'acqua e dell'ambiente ha detto l'assessore petruzzelli ben ritrovati per il consueto appuntamento con l'informazione di antena sud andiamo subito a vedere quali sono i fatti più importanti della giornata odierna partiamo dai riti della settimana santa a taranto che hanno visto grande affluenza e commozione dopo il lungo stop pandemico la comunità si riappropria delle tradizioni pochi minuti prima delle 10 questa mattina i tre tocchi sul portone della chiesa del carmine per il rientro delle statue dei misteri guardate erano le 9 e 47 quando il troccolante ha bussato tre volte al portone della chiesa del carmine il simulacro della dolorata fatto il suo ingresso poco dopo chiudendo così di fatto i riti della settimana santa tarantina anche la processione dei sacri misteri come quella della dolorata di san domenico è rientrata circa due ore più tardi rispetto a quanto solitamente accade il ritorno dei riti dopo due anni di interruzione a causa del covid è stato vissuto intensamente da tutti dai fedeli dai confratelli dai turisti che non hanno voluto mancare allo storico appuntamento piazza giovanni ventitresimo nel cuore di taranto gremita al momento dei fatidici tre colpi un applauso lungo e composto come tutta la processione i riti del 2022 sono già stati consegnati alla storia all'uscita dei misteri c'è il padre del troccolante pasquale che abbassa il cappuccio di suo figlio giuseppe un suggestivo passaggio di testimone che ha segnato il salto di generazione nella storica famiglia caso le lacrime dei confratelli per aver messo alle spalle le incertezze degli ultimi due anni il suono delle marce funebre intonate dalle bande lo sguardo della gente oltre le transenne la città che torna ad abbracciare i suoi riti forse tra i più sentiti perché desiderati a lungo tantissimi i giovani che hanno seguito le processioni tutto trasmesso in diretta da antenna sud un imponente schieramento di uomini e mezzi messo in campo dal gruppo editoriale domenico distante quasi 15 ore di diretta dalla sera del giovedì santo al mattino del sabato santo record di ascolti e di consensi di questa settimana santa tarantina resterà a lungo nella mente e nei cuori di tutti la bimba che sulla scalinata di san domenico lancia baci volanti alla dolorata che le passa accanto ieri a mezzanotte il rientro dei sacri misteri a francavilla fontana abbiamo seguito l'evento in diretta integrale con antenna sud extra guardiamo uno stralcio era da poco passata la mezzanotte quando la prima statua dei misteri scortata dai confratelli e dalle consorelle della chiesa di francavilla fontana ha raggiunto piazza giovanni ventitresimo per il mesto rientro le simulacri nella chiesa di santa chiara la chiesa della morte che custodirà le figure della passione di cristo per un altro anno gelosamente si è chiusa così la processione dei sacri misteri di francavilla atto più struggente della settimana santa un evento lungo quasi cinque ore seguito integralmente in diretta dalle telecamere di antenna sud extra a colorare di patos la via crucis il folto gruppo di crociferi al seguito della statua della cascata penitenti con la trai che scalzi incappucciati hanno trascinato lungo il percorso le pesanti croci in legno un atto di penitenza di fede di amore infinito verso il cristo quando le statue sono rientrate la tragedia del golgota si è compiuta la morte del cristo il dolore infinito della madre maria la consapevolezza di una resurrezione nel giorno della pasqua quando il cerchio sarà finalmente chiuso per una vita che resta un segreto per una morte che resta il più grande dei misteri cambiamo argomento andiamo a taranto tragedia sfiorata nello stabilimento ex ilva cade una struttura pesante nel reparto acciaieria 2 lanciare l'allarme i sindacati si difende acciaierie d'italia annunciando provvedimenti investigativi e disciplinari nei confronti degli operatori stessi al fine di valutarne le responsabilità i dettagli una tragedia sfiorata dunque secondo i sindacati quella che si sarebbe verificata lo scorso giovedì all'interno dello stabilimento siderurgico di taranto nel reparto acciaieria 2 sull'impianto tas durante le manovre di sostituzione snorkel lo stesso sarebbe precipitato rischiando di schiacciare la cabina del palista impegnato nella pulizia della zona l'impianto in questione e la relativa attività sarebbero già interessati da prescrizione asl come rappresentanti dei lavoratori dice l'usb in una nota stampa abbiamo chiesto più volte segnali che indicassero un cambio di direzione mirati a migliorare un clima in fabbrica divenuto ormai pesantissimo intanto arriva immediata la precisazione di acciaieria d'italia che con comunicato stampa precisa gli eventi accaduti ai reparti del treno lamiere dell'acciaieria 2 non possono essere riferiti in alcun modo a carenza di attività manutentive ma sono invece da debitare esclusivamente a manovre operative non conformi alle norme aziendali vigenti acciaieria d'italia precisa quindi che gli operatori coinvolti sono interessati da provvedimenti investigativi e disciplinari al fine di valutarne le responsabilità andiamo a lecce terribile incidente un auto e uno scooter si scontrano un 17enne finisce in rianimazione al vito fazzi due incidenti nella notte a lecce il primo intorno alla mezzanotte si è verificato in piazza mazzini ha riguardato un'autovettura e uno scooter in sella al quale c'erano due giovani uno di 18 l'altro di 17 anni ad avere la peggio sono stati i ragazzi trasportati in codice rosso all'ospedale vito fazzi il 17enne in come de ricoverato in rianimazione il 57enne invece che era la guida di una smart è rimasto illeso i mezzi sono stati sequestrati il secondo incidente si è verificato intorno alle tre sulla strada che da sandona ci porta a salice salentino dove un'autovettura è uscita fuori strada finendo la corsa contro il guardrail in auto un intero nucleo familiare padre madre due bambini per fortuna i piccoli sono rimasti illesi mentre la donna soccorsa dal 118 non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato solo diverse fratture nella parte superiore del corpo su entrambi gli episodi indagano le forze dell'ordine e ancora altri incidenti questa volta nel barese tre persone sono rimaste ferite questa mattina in un sinistro avvenuto su lungomare nazario sauro nel tamponamento a catena sono stati coinvolti quattro veicoli tra i quali una pecar dell'amiopuglia alla municipalizzata dei rifiuti tre conducenti sono rimasti feriti compreso l'operatore amiu due dei quali trasportati in codice giallo al policlinico e uno in codice rosso all'ospedale di venere la ricostruzione della dinamica e al vaglio della polizia locale di bari intervenuta sul posto gli ultimi aggiornamenti sull'omicidio tuputi il titolare del di un bar di barletta ucciso lunedì scorso oggi l'autopsia confermati tre colpi dall'esame autoptico che hanno raggiunto gli organi vitali dell'uomo portandolo poi al decesso sentiamo è stata effettuata nella mattinata di sabato l'autopsia sul corpo di giuseppe tuputi il 43 ne di barletta ucciso nel suo bar lo scorso 11 aprile l'esame autoptico è stato condotto dalla dottoressa sarà sablone del reparto di medicina legale del policlinico di bari i tre colpi esplosi all'interno del locale avrebbero raggiunto il titolare al cuore ai polmoni all'addome colpendo quindi organi vitali fortemente vascolarizzati le autorità sono ancora al lavoro per chiarire il movente del delitto e l'effettiva responsabilità dell'omicidio giovedì è stato convalidato il fermo di pasquale rutigliano 32enne pregiudicato di barletta accusato di omicidio volontario porto abusivo di arma da fuoco e violazione di sorveglianza speciale l'uomo si trova tuttora presso il carcere di trani in attesa di ulteriori sviluppi nelle indagini martedì 19 aprile invece a conclusione dei riti della settimana santa si celebreranno i funerali di tuputi con conseguente lutto cittadino proclamato dal commissario prefettizio di barletta francesco alecci esegui alle ore 16 presso la parrocchia del cuore immacolato di maria a poche centinaia di metri dal bar morrisons revolution in cui si è consumato l'omicidio e la mattinata odierna nel carcere di trani si è tenuto l'interrogatorio del 31enne barlettano in stato di fermo in quanto accusato dell'omicidio di tuputi e dinanzi al pubblico ministero della procura l'uomo ha confessato di aver sparato all'interno del bar gestito dalla vittima l'indagato ha dichiarato di essere entrato e di aver chiesto una birra e durante la conversazione con la vittima si sarebbe alterato prendendo l'arma e sparando dei colpi verso il bancone dove si trovava tuputi per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce continuiamo con la cronaca arrestato nel barese un 24enne esponente della criminalità organizzata dovrà scontare una condanna definitiva alla pena di un anno e due mesi di reclusione per lesioni aggravate detenzione porto di armi il 24enne nicola lorusso figlio del boss barese umberto il 24enne sfuggito alla cattura a gennaio è stato rintracciato dagli uomini della squadra mobile di bar in un casolare sul lungomare a sud del capoluogo pugliese intercettato durante una videochiamata con il padre detenuto i fatti per i quali è stato condannato e ora è finito in carcere risalgono al 18 ottobre 2015 lorusso ferì con colpi di pistola durante i festeggiamenti in onore dei santissimi medici a bitonto nel barese ne pressi dell'una parca follato di gente un pregiudicato del posto nella circostanza anche un passante fu ferito lievemente da una pallotto lavagante e l'aguato provocò panico tra folla messa in fuga dalla sparatoria per questa vicenda il 24enne all'epoca appena maggiorenne era già stato arrestato nel dicembre del 2017 ed in attesa di sentenza definitiva era poi tornato in libertà per la sparatoria dell'ottobre 2015 maturata nell'ambito di scontri tra clan rivali a bitonto per il controllo dello spaccio di droga in città altre tre persone sono state già condannate e arrestate nei mesi scorsi ancora cronaca due risse tra minorenni nella provincia di bari e nella bat e un telefonino a filmare tutto e la nuova frontiera del bullismo in puglia due casi di aggressioni tra ragazzini in meno di 24 ore violenza come strumento di lotta politica che è tipica dello squadrismo storicamente manifestazione del partito fascista con queste parole il procuratore di bari roberto rossi ha chiesto e ottenuto che 18 militanti pugliesi di casa pound vengano processati per i reati e a vario titolo contestati di riorganizzazione del disciolto partito fascista e lesioni personali aggravate il gruppo del tribunale di bari francesco mattiace accogliendo la richiesta della procura ha rinviato a giudizio 18 dei 28 imputati il processo che inizierà il 13 ottobre riguarda la presunta aggressione squadrista avvenuta a bari il 21 settembre 2018 nei confronti di un gruppo di manifestanti antifascisti dopo un corteo organizzato otto giorni dopo la visita dell'allora ministro dell'interno matteo salvini tra gli imputati rinviati a giudizio c'è il 45enne responsabile del circolo kraken sede di casa pound bari dove sarebbe stata organizzato l'assalto squadrista in quel luogo chiuso da allora e tuttora sotto sequestro i militanti di casa pound avrebbero raccolto armi e radunato uomini provenienti da tutta la puglia in attesa del passaggio dei manifestanti antifascisti un altro imputato sarà processato con rito abbreviato il 17 giugno e per gli altri nove è stata accolta la richiesta di messa alla prova dovranno svolgere dai 6 agli 8 mesi di lavori socialmente utili nel procedimento sono stati ammessi come parti ampi rifondazione comunista comune di bari regione puglia e le quattro presunte vittime dell'aggressione è quello che abbiamo appena ascoltato il servizio relativo ai 18 rinvii a giudizio degli altrettanti attivisti di casa pound adesso invece torniamo a raccontarvi quello di cui dicevamo poc'anzi questa nuova frontiera del bullismo in puglia tra minorenni aggressioni tra ragazzini e poi la voglia di filmare il tutto con il telefonino ci sono stati diversi episodi a bari e a barletta nel giro di poche ore due casi in puglia solo questa settimana di risse tra minori tra bari e barletta e il nuovo fenomeno criminale che coinvolge i giovani web si chiama cyber bashing ovvero riprendere con i propri smartphone una lite o violenta aggressione tra minori per poi postarla in rete il caso di barletta ha fatto il giro del web e di lì si è diffusa come una vera e propria notizia due ragazze sette ceffoni violenti in pieno volto e sul capo e poi un'energica tirata di capelli che fa finire a terra la vittima dell'aggressione che appare totalmente tramortita da rinunciare anche a difendersi parole forti e dure quelle della guzzina che accusa la vittima di aver infangato il buon nome di una sua amica il tutto ripreso dalla telecamera di un cellulare finito in rete in men che non si dica per un video da 20 secondi il secondo caso a bari nel popoloso e periferico quartiere di carbonara qui due dodicenni sarebbero state aggredite da parte di alcune coetane spintonate e prese per capelli per sguardi non graditi ai fidanzatini di un gruppetto di coetanee le giovani sarebbero state medicate al pronto soccorso del giovani ventitresimo denunciando di aver riportato lesioni in seguito a un'aggressione una dodicenne ha riportato lievi ferite l'altra un sospetto trauma cranico una nuova frontiera del cyberbullismo che sta allarmando non poco gli addetti ai lavori occupiamoci di covid c'è il tarpuglia che rigetta i ricorsi dei militari non vaccinati sospesi dal lavoro i giudici amministrativi rigettano i ricorsi dei militari sospesi contro l'obbligo della dose anti covid disposizioni adottate sul chiaro ed evidente presupposto della situazione di emergenza determinata dalla pandemia che ha portato un numero elevatissimo di contagi e decessi così si legge nella sentenza del tarpuglia che risponde un militare barese dopo che quest'ultimo aveva impugnato la sospensione dal lavoro in quanto non vaccinato pandemia ancora in atto scrive ancora il tar attese le non contestate statistiche giornaliere le quali evidenziano un livello tuttora elevato di trasmissione della patologia un numero ancora alto di decessi che riguardano in gran parte la popolazione non vaccinata i giudici hanno rigettato il ricorso del militare ufficiale dell'aeronautica spiegando che non può condividersi l'assunto secondo cui la campagna vaccinale si sarebbe sostanziata in una vaccinazione sperimentale umana inefficace rispetto all'obiettivo di ridurre la letalità del virus tali affermazioni oltre ad essere del tutto generiche dice il tar non sono assistite da evidenze scientifiche tesi del ricorrente aggiungono i giudici amministrativi ove accolta determinerebbe nell'attuale fase non del tutto superata di emergenza pandemica un vuoto regolativo capace di produrre gravi conseguenze sul piano della salvaguardia della salute dei cittadini il tar della puglia continua così a bacchettare chi si oppone all'obbligo del vaccino anti covid e la conseguente sospensione del lavoro depositati oltre questo altri due diversi provvedimenti con i quali i giudici amministrativi hanno rigettato altrettanti ricorsi vediamo invece quali sono gli ultimi contagi registrati nella nostra regione lo facciamo con l'infografica sono 5.277 i nuovi casi a fronte di 28.835 test purtroppo 19 i decessi sono 101.285 attualmente positivi in puglia 610 ricoverati in area non critica 29 in terapia intensiva continuiamo a parlare di sanità ci occupiamo dell'associazione di categoria dell'RSA e centri di urni welfare allevante che inaugura la sua nuova sede in corso Vittorio Emanuele a Bari alla presenza di autorevoli ospiti tra istituzioni e scienza grande partecipazione a Bari all'evento inaugurale della nuova sede di welfare allevante associazione di categoria che raggruppa oltre 100 RSA e centri di urni operanti in Puglia attiva anche in Basilicata e in Molise all'inaugurazione in corso Vittorio Emanuele sono intervenuti oltre a numerosi gestori di strutture socio sanitarie anche il sindaco di Bari Antonio De Caro il consigliere regionale Ignazio Zullo il direttore amministrativo delle ASL Bari Luigi Fruscio il presidente della Croce Rossa comitato di Bari consiglia Margiotta e il presidente della società nazionale di bioetica e comitati etici Francesco Bellino convinta La soddisfazione ha espresso il presidente dell'associazione Antonio Perrugini che salutando gli ospiti ha sottolineato l'importanza del contesto associativo in senso etico e culturale spiegando altresì il successo del nuovo progetto Network che mette a disposizione di RSA e centri di urni servizi di consulenza e non solo preziosi per la qualità delle strutture. Le strutture socio sanitarie sanno di avere un punto di riferimento qualificato e competente e ci auspichiamo che anche la regione Puglia voglia avvalersi di queste competenze. Warfare Levante è un'associazione che si fa sentire dentro un tema che è molto sensibile in questa nostra regione. Noi abbiamo una mancata assistenza di anziani non autosufficienti e di disabili sia nei centri di urni che nell'RSSA. Ha raggiunto il presidente Perrugini anche la professoressa Luisa Torsi chimica ricercatrice dell'Università di Bari nel campo della diagnostica medica. Nominata nel consiglio scientifico del CNR, Torsi ora è al lavoro sulla diagnosi precoce di virus e tumori ed è tra gli ospiti all'inaugurazione della nuova sede di Welfare a Levante. Qui il comitato scientifico dell'associazione ha annunciato per il prossimo 10 giugno una mostra fotografica insieme alla consegna del premio nazionale Welfare a Levante che sarà assegnato a una figura di altissima levatura scientifica. È stata una settimana importante per quanto riguarda lo studio della fertilità e della procreazione a Biceglie con dei corsi dedicati alle coppie. La procreazione medicalmente assistita è stato l'argomento al centro del sesto corso teorico pratico nella sala convegni di Momo Fertilae a Biceglie, struttura all'avanguardia nel ramo biotecnologico e punto di riferimento per tutto il mezzogiorno diretta dal dottor Domenico Baldini. In questa settimana si è puntato a contribuire alla formazione di base sui percorsi della PMA, procreazione medicalmente assistita e di fornire un aggiornamento sulle principali tematiche legate all'infertilità. Sono state effettuate in questa tre giorni valutazioni sull'infertilità maschile e femminile con analisi del percorso diagnostico della coppia, i test seminali, i diversi percorsi terapeutici, la fisiologia dello sviluppo embrionario ed il trasferimento degli embrioni, la gestione della qualità di un laboratorio di PMA. Pazienti e coppie che non hanno disponibilità economica di fare i trattamenti nel privato vanno verso il nord dove il privato convenzionato soddisfa queste richieste. È auspicabile, abbiamo già detto più volte in regione, di aumentare la forza del pubblico nel trattare le coppie ma altrettanto potrebbe essere un'idea convenzionare i centri privati per far sì che le nostre coppie non debbano emigrare. Fare in modo che tutte le coppie d'Italia possono accedere ad avere terapie adeguate, diagnosi adeguate in modo uguale. I livelli essenziali di assistenza sono a un passo di essere approvati. È giusto che ora ogni regione a partire dalla Puglia per dare almeno aumentare questo contributo dei bambini che nascono per le coppie che vogliono avere dei figli 1.6 confronto alla Toscana che ha 6.8 è un numero che non si può sentire. Questa è la prima cosa che la regione Puglia deve fare come alle altre regioni meridionali. La crisi sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese e Giuseppe Conte convoca una riunione congiunta del Comitato Economico e del Comitato Politiche del Lavoro per trovare una risposta immediata a questo problema. Sentiamo quale. Una crisi che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese. La pandemia prima e la guerra dopo sta compromettendo il potere d'acquisto e la capacità produttiva del Paese. Per questo il leader dei pentastellati Conte ha convocato il Comitato Tecnico Economico. L'urgenza è quella di intervenire a difesa di consumi, salari e aziende. L'abbassamento del costo dei beni di largo consumo azzerando l'IVA sui prodotti e riducendola per le bollette di gas e luce. Dobbiamo alzare i salari, dobbiamo farlo detassando gli aumenti in busta paga e questo anche per quanto riguarda i rinnovi contrattuali di cui stanno discutendo le parti sociali. Infine per le imprese, attualmente il credito d'imposta sull'energia per le imprese è al 25%, dobbiamo portarlo al 50% perché chiaramente tante imprese, ma parliamo di intere filiere produttive, stanno sostenendo dei costi non più sostenibili. L'ex Premier ha poi richiamato le responsabilità il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha bollato la riforma della giustizia a Cartabia come inutile. Io credo che sia un atto di responsabilità lavorare tutti cercando anche di raggiungere un giusto compromesso. Vedo che ci sono alcune forze politiche a partire da Italia Viva che si stanno opponendo a qualsiasi compromesso. Spero che questo sia superato perché non vorrei che qualcuno coltivasse la prospettiva di voler andare a rivotare per il nuovo CSM. Amministrative cominciano a delinearsi le griglie di partenza per l'appuntamento elettorale di giugno prossimo. C'è il Barese con Bitonto e Molfetta, ma c'è anche Barletta e nel centro della BAT il Terzo Polo sceglie le primarie e le fissa per il 24 aprile. Comunali nel Barese sempre più nel vivo e griglie di partenza che iniziano a comporsi. A Bitonto il centro-sinistra evita la spaccatura e si ritrova intorno a Francesco Paolo Ricci, punto di convergenza di una coalizione che va dai democratici ad azione, passando per sinistra italiana e Italia Viva. Il centro-destra dovrebbe ufficializzare a breve l'ex consigliere regionale Domenico Tamascelli che ha già la sua lista, fatto comune. Amolfetta è partita la campagna di Lillino Drago, magistrato di lungo corso che ha riunito il centro-sinistra, DEM, Movimento 5 Stelle e nelle ultime ore sono andate in archivio anche le ritrosie dei vendoliani di sinistra italiana, mentre si attende che sia il centro-destra a sciogliere una riserva. A Barletta sono queste le ore nelle quali si concretizzano le primarie di domenica 24 per decidere chi sarà a guidare il fronte alternativo tanto al centro-destra di Mino Cannito quanto al centro-sinistra a trazione PD Civici di Santa Scomegna. In campo c'è già Carmine Doronzo di sinistra italiana, ma l'area che va da Italia Viva più Europa e azione ha deciso di schierare Francesco Mazzola per conoscere il nome del terzo aspirante alla fascia tricolore. Dunque toccherà attendere ancora qualche giorno. Andiamo a Lecce. Il sindaco Salvemini chiude un parco. Chiusura forzata del parco ex Galateo ed arrivano le scuse del sindaco Salvemini. La certificata situazione di precarietà di molti dei pini presenti a rischio caduta impone di tutelare la sicurezza di tutti e così in seguito alla consegna dall'agronomo incaricato dall'amministrazione di una relazione dettagliata sullo stato di salute di ciascuno degli alberi presenti, la decisione è stata quasi obbligatoria. L'attuale stato di salute di alberi secolari che per decenni hanno vissuto in stato di abbandono e incompatibile quindi con la presenza di cittadini che vivono il parco per gioco e svago. Fino a quando non saranno completati gli interventi di messa in sicurezza, il parco non potrà essere accessibile a tutela dell'incolumità di tutti. Una situazione che amareggia il primo cittadino, come lui stesso scrive in un post sui social, ma che rende inevitabile la decisione di tenere i cancelli chiusi anche in questi giorni di festa. Così proprio Salvemini si scusa con i suoi stessi cittadini, ma è un atto di responsabilità al quale non si può proprio sottrarre, scrive. Ci fermiamo per qualche istante, restate con noi, torniamo tra poco con altre notizie. Bentornati con l'informazione di Antenna Sud. Andiamo nel capoluogo pugliese a Bari, dove torna il Frattino. Questo evento che suscita l'interesse degli animalisti, ma non solo certifica l'eccellenza della qualità dell'acqua e dell'ambiente. Il Frattino torna a nidificare sul lungomare di Bari, transennato un tratto a sud della città da Torre Quetta verso San Giorgio, per proteggere i primi nidi, tre al momento, ma ne arriveranno sicuramente altri con il caldo. Un appuntamento annuale ormai. I nidi a Bari crescono sempre più e cresce l'attenzione. Proteggere il Frattino vuol dire proteggere le 150 specie di animali che passano da questo tratto di lungomare. La presenza del Frattino significa eccellenza della qualità dell'acqua e dell'ambiente. La raccomandazione è quella di evitare che i cani invadano quest'area protetta. Da questa mattina troverete delle transenne con un nastro bianco-rosso sul lungomare a sud della città, da Torre Quetta verso San Giorgio, perché stiamo proteggendo i primi nidi del Frattino. Ce ne sono primi tre, ma ne arriveranno anche altri appena esploderà il caldo. Infatti stamattina qualcuno che correva, anche qualcuno con il proprio cane, appena ci ha visto armeggiare con transenne e nastro, subito ha capito che era il Frattino ed è bello perché sta diventando un appuntamento annuale, crescono sempre di più i nidi e Bari si dimostra sempre più una città attenta alla sostenibilità perché proteggere il Frattino vuol dire proteggere le 150 specie di animali che svernano o passano da questo tratto di lungomare. Un ponte che da New York arriva fino alla Puglia, parte nelle prossime ore la campagna promozionale Puglia Unexpected Italy sulle pagine del New York Times, sia in versione quotidiano che in versione magazine. A Pasqua in viaggio circa 14 milioni di italiani. Un ponte che da New York arriva fino alla Puglia, parte nelle prossime ore la campagna promozionale Puglia Unexpected Italy sulle pagine del New York Times, tanto in versione quotidiano quanto in quella magazine. L'Italia che non ti aspetti sarà in vetrina fino al 22 maggio prossimo, si apre con gli affreschi della Cattedrale di Santa Caterina a Galatina, nell'Eccese e assicure le altre per un totale di 28 immagini complessive che precedono la campagna digitale che prenderà il via il 25 aprile sul sito www.newyorktimes.com. Durerà sei settimane in tutto, con l'obiettivo di raggiungere i cittadini americani dotati di passaporto e che hanno espresso la volontà di fare un viaggio in Italia nei prossimi 12 mesi, naturalmente. Insomma, la Puglia, a voler citare il motto storico della testata, resta tra le notizie che vale la pena stampare o sulle quali vale la pena cliccare. Coinvolte tutte e sei le province in quello che appare il primo banco di prova del turismo. D'altro canto, secondo Federalberghi, saranno circa 14 milioni di italiani in viaggio nei giorni che arrivano e di questi, uno su quattro, il 24,9%, approfitterà della vacanza con il 25 aprile per allungare le proprie ferie, Puglia compresa. Monte Sant'Angelo, la città dei due siti Unesco in provincia di Foggia, raccoglierà la quinta edizione del festival dedicato all'Arcangelo Michele. Un'edizione speciale, quella di quest'anno, dedicata alla pace e all'Ucraina. Si svolgerà a Monte Sant'Angelo, la città dei due siti Unesco, la grotta dell'Arcangelo Michele, le faggete vetuste della foresta Umbra, la quinta edizione del festival internazionale Michel, un festival legato al culto internazionale di San Michele Arcangelo, in programma tra il 5 e l'8 maggio prossimi, grandi eventi artistici e culturali per un'edizione speciale che sarà dedicata alla pace e all'Ucraina e vedrà tra i protagonisti la street artist statunitense Colette Miller con il suo Global Angel Wings Project. In occasione del 50esimo anniversario della Convenzione del Patrimonio Mondiale del 1972, per la pace e la comprensione tra le nazioni, nell'immagine ufficiale dell'evento è stato scelto quest'anno proprio il San Michele, presente nello stemma della città di Kiev, protettore dell'Ucraina. E da Los Angeles a Monte Sant'Angelo, la performer Colette Miller porta il suo progetto di arte pubblica interattiva con un'installazione artistica permanente nel sito prescelto in occasione della sua residenza a Monte Sant'Angelo, una coppia di ali d'angelo inedite che faranno parte della mappa internazionale del suo Global Angel Wings Project. Michel è un festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e non gastronomico che promuove il dies fessus dell'apparizione dell'Arcangelo Michele sul Monte Gargano l'8 maggio. Secondo la tradizione fu proprio in questo giorno che l'Arcangelo, alla metà del VII secolo, apparva ai Longobardi per assicurare loro la vittoria sui bizantini nella vicina Siponto. Per questo motivo i Longobardi fecero della grotta dell'Arcangelo sul Monte Gergano il loro santuario nazionale e di San Michele il loro protettore. Ieri nel venerdì santo, nel giorno del dolore, la comunità ionica ha accolto chi fugge dalla guerra. Nel venerdì santo, nel giorno del dolore, l'immagine della piccola che stringe forte a sé il coniglietto di peluche è il simbolo della comunità ionica che ancora una volta accoglie chi il dolore lo ha vissuto. Sono 15, tra donne e bambini, fuggiti dalla guerra in Ucraina, arrivati nella città di Gruttaglie. Questo è un giorno veramente particolare, la passione di Cristo, chi più di loro rappresenta il Cristo crocifisso. Per cui qua abbiamo aperto, spalancato non solo le nostre porte, ma anche i nostri cuori. Felici di accoglierli e di poter dare loro qualcosa, un po' di serenità soprattutto, e di pace e tantissimo amore. Due nuclei familiari resteranno nella città delle ceramiche. Alle famiglie accoglienti il compito di accompagnarli in un percorso di rinascita. Siamo stati contenti che sia capitato a noi, però siamo consapevoli che sarà anche un percorso magari un po' insinuoso, perché non sappiamo in realtà cosa hanno vissuto questa mamma con queste ragazze qualche ora prima. La Chiesa tra la gente e per la gente e il parroco della Chiesa Madonna delle Grazie che allargerà la sua famiglia con una mamma e i suoi tre bimbi piccoli. Per noi il Venerdì Santo è l'evidenza della totalità dell'amore che si dona sino a morire sulla croce senza contestare, senza chiedere vendetta, amando sino alla fine. Finché vorranno, chiunque vorrà, la comunità ionica rappresenterà un porto sicuro. Saremo al fianco di queste famiglie con tutto quello che potrà fare l'amministrazione comunale e ci adopereremo perché a queste persone non manchi nulla. Finché vorranno stare sul nostro territorio noi saremo qui per loro. Festa di Pasqua all'ospedale pediatrico di Bari Giovanni XXIII. Il concerto dei ragazzi e del conservatorio di Gravina e l'inaugurazione del teatrino hanno donato qualche ora di leggerezza ai più piccoli. Presenti i vigili del fuoco e la Croce Rossa italiana e una delegazione dell'Associazione Ucraina di Puglia e Basilicata. A Foggia nasce la prima Banca del Tempo, un'iniziativa finalizzata a favorire la coesione sociale e il volontariato. Partiamo dal nome che è Tempo e Talento. L'idea è quella di censire e valorizzare i talenti, i numerosi talenti che stanno dentro la cittadinanza. Sollecitarli e solleticarli affinché questi talenti vengono poi messi a disposizione della comunità. Con l'obiettivo di rilanciare il volontariato e la coesione sociale in affanno a causa delle difficoltà legate alla pandemia nasce a Foggia Tempo e Talento, l'iniziativa promossa da Auser Territoriale Foggia che ha l'obiettivo di sostenere e incrociare attraverso la mutualità l'offerta e la richiesta di servizi. Sarebbe bello, affermano gli ideatori del progetto, se il saper fare di ciascuno di noi, anche solo per un'ora alla settimana, venisse donato agli altri, contribuendo a tessere le trame sociali che la pandemia ha rarefatto. L'idea di fondo è quella comunque della mutualità e della reciprocità. Io metto a disposizione il mio talento della comunità e chiedo lo scambio con qualcosa d'altro. Ma non soltanto. Nella nostra banca del tempo è anche possibile semplicemente donare le proprie risorse, il proprio tempo, i propri talenti appunto, oppure semplicemente richiederli e usufruirli. La speranza è di contribuire appunto alla ritessitura di queste trame sociali che si sono sfilacciate. Chi è interessato ed è disponibile per questo tipo di attività, cosa deve fare concretamente? È sufficiente che si ricchi in una sede dei nostri circoli, se intende compilare il modulo in maniera cartacea, oppure che si colleghi al nostro sito, all'indirizzo ausercapitanata.wordpress.com.br Banca del Tempo e può compilare anche la domanda online. L'unica cosa è necessario per evidenti ragioni un indirizzo di posta elettronica e un numero di cellulare poi per i rapporti organizzativi. Non dobbiamo arrenderci, è giunto il momento appunto di tirare fuori quella energia positiva di un tempo. Il Comune di Bari ha premiato la società sportiva Just Apnea che si è classificata seconda ai campionati italiani di Hockey Subacqueo. È la seconda classificata agli ultimi campionati italiani la società sportiva Just Apnea che con i suoi atleti e la sua squadra di Hockey Subacqueo è stata protagonista della competizione che ha visto squadre provenienti da tutta la penisola. Per questo il Comune di Bari ha deciso di consegnare un riconoscimento alla squadra, tutti di età compresa tra i 16 e i 25 anni, a premiarli l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli che si è detto soddisfatto per questo riconoscimento giunto nel capoluogo pugliese per uno degli sport minori che però ha grande appeal soprattutto tra i giovani. È un orgoglio non solo perché sono arrivati al secondo posto in Italia quindi è una cosa molto bella ma perché fanno uno sport difficilissimo guardate sono bravissimi solo per questo ed è veramente bello sono l'emblema dello sport che porta avanti tanti sacrifici tanto impegno che poi però ti fa raccogliere i frutti di questo impegno. Sicuramente è uno sport che non è ancora molto conosciuto in Italia però è molto praticato all'estero Nuova Zelanda, Australia sono dei paesi in cui viene praticato da tanti anni anche all'università loro sono un gruppo che si è formato diversi anni fa quindi non è una novità nella nostra città hanno cominciato da piccoli li abbiamo presi quando erano ancora dei bambini venivano già dall'agonismo nel nuoto e hanno continuato ad allenarsi credendoci e i risultati poi alla fine sono arrivati e a Carosino il festival di primavera Torna a Carosino il festival di primavera che per un'intera settimana coinvolgerà tutta la comunità terminando come tradizione nella zona festa in via Giorgio Lapira uno spiazzo appena fuori dall'abitato con il rogo propiziatorio della Fucazzara su cui viene issato un pupazzo che rappresenta le negatività dell'inverno si comincerà dunque alle 12.30 di lunedì 18 aprile con la scampagnata di Carusinieddu in un oliveto vicino a Carosino alle 20.30 di martedì 19 aprile sarà in una location della zona industriale sulla strada Carosino-Grottaglie un laboratorio di teatro sperimentale seguito da una cena condivisa con gli artisti eventi anche mercoledì 20 aprile, giovedì 21, venerdì 22 fino al momento clou sabato 23 aprile nella zona festa proprio in via Giorgio Lapira e alle 21 ci sarà il fuoco di primavera ovvero l'accensione della Fucazzara allestita anche quest'anno solo con residui di potatura di vigne e ulivo raccolti in fascine nei mesi precedenti dagli organizzatori evitando così l'impiego di legni trattati Siamo in chiusura del nostro telegiornale grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Antenna Sud un buon proseguimento e a tutti voi una buona Pasqua Rimani connesso scarica gratuitamente l'app di Antenna Sud trovi tutte le news, i programmi in streaming e on demand e le pagine social grazie a tutti